Grazie a tutti. Non è abbattuta, ci sta un po' di ironia, ma questo fa parte di persone e personalità di cultura di spessore che chiaramente tendono anche spesso a primeggiare. No, è un momento importante per noi perché in questa assemblea noi un pochino diamo l'agenda di tutto l'anno, guardiamo quelle che sono le problematiche che vogliamo affrontare e soprattutto confrontiamo fra di noi perché il cantiere produce cultura, produce idee, ma tenta di produrre idee condivise. C'è questo nostro metodo, quello dell'intelligenza collettiva, dove cerchiamo un dialogo, dove assommiamo idee, cultura, pensieri, cercando di far sì che ciascuna di queste possa arricchire quella dell'altro. Per cui no, non vi sono dei rumors. Mentre noi stiamo parlando, il presidente effettivo Pierpaolo Segneri sta dando in là ai vari presidenti di commissione per i vari argomenti che dovranno essere trattati, ma sicuramente attendiamo degli ospiti importanti e quelli ci daranno un loro contributo esterno. Perfetto Fabio, abbiamo iniziato anche con gli altri membri del direttivo, delle interviste parlando di un appuntamento che è parallelo quasi, insomma si sovrappone o quasi a questo in Italia che è l'elezione del Capo dello Stato. Ecco, tu su questo hai delle idee, dei nomi e soprattutto qualche ipotesi o meglio qualche valutazione di come ci si sta arrivando a questo appuntamento. Il tema del Quirinale è il tema che in questo momento è maggiormente dibattuto nel nostro paese, ma è un tema molto complesso, forse non è neanche facile da riassumere in poche battute mentre noi stiamo eleggendo dei presidenti di un'associazione culturale. Il Presidente della Repubblica ha un ruolo particolare. La sostituzione sancisce che deve essere assolutamente super partes. Se deve essere super partes, a mio modesto avviso di cittadino, non deve essere nominato con i voti di una partes anche se è una partes che ha un'influenza sui grandi elettori. Per memoria, chi elegge il Presidente della Repubblica? Tutti i deputati, tutti i senatori e taluni grandi elettori che rappresentano, lo dico in maniera sintetica, le macro aree regionali, più i senatori a vita. Il co-servo è di mille e cinque, mille e sei persone. Lo stesso Presidente uscente napolitano voterà quale senatore a vita. Allora il problema qual è? Il Presidente della Repubblica deve essere persona che deve essere al di fuori del lagone politico. Luigi Enaudi, quando fu primo Presidente della Repubblica, a volte non parlava, scriveva delle lettere brevi a chi doveva ricevere il suo messaggio perché non cercava contraddittorio, perché il Presidente doveva dare un'indicazione ma rimanerne al di fuori. Noi abbiamo assistito nell'ultimo settennato, che è diventato poi un novennato, non so se il termine si può usare nella lingua italiana, a un Presidente della Repubblica che ha fatto e disfatto governi, cosa che a mio avviso da cittadino non gli compete. Questo non vuol dire che sia stato un abuso, vuol dire che è qualcosa che esula da quelle che sono le competenze del Presidente della Repubblica. Nomi ne hanno fatti tanti. La Pra si vuole che più viene nominato qualcuno, più è difficile che questo qualcuno venga eletto. Il meno nominato di tutti in questo momento è Rodotà, per cui forse potrebbe essere il candidato della quarta tornata, quella dove serve la maggioranza non assoluta ma semplicemente la maggioranza sul quorum dei votanti. Io vedrei un Presidente di idee più liberali, di idee che ci possa portare verso una crescita e uno sviluppo che sia meno legato alla macro-burocrazia del Paese. Nel mio cuore, se fossi un grande elettore, voterei Antonio Martino. Ma queste sono le idee di un cittadino e non le idee del cantiere, che è un'associazione che fa cultura e cerca di farla aparteticamente parlando. Perfetto, allora buon lavoro e buona associazione congressuale e buona assemblea congressuale. Grazie, oggi mi faranno lavorare parecchio. Grazie ancora.